benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi siamo qui per parlare delle battaglie classificate oggi vi mostro quella che è la mia nave preferita per quanto riguarda il compartimento battleship nelle ranked goal la lega oro diciamo la lega più prestigiosa anche se effettivamente ormai di prestigio si può parlare ben poco nelle ranked battle midway contro nakimov compartimento battleship piuttosto importante singolo incrociatore per lato marzo contro marzo identico squadriglia in acqua per quanto riguarda la formazione destroyer signori siamo qui su nord in triplo cap classico arena da ranked battaglia classificata e in questa partita non solo vi mostrerò quella che è una delle mie più belle partite nelle battaglie classificate recenti ma vi mostrerò soprattutto una serie di consigli e di opinioni tra l'altro nel post partita con un'analisi piuttosto precisa di quello che secondo me è la corazzata migliore sottolineo migliore per le battaglie classificate che si possono fare il lega oro al tier 10 questo perché la proisen sembra essere effettivamente fatta per questa modalità e le ragioni per cui è fatta in questa modalità sono veramente veramente tantissime se guardate la formazione alleata si sta spingendo verso sinistra noi giochiamo a destra e quasi in totale isolamento contro il sale scelta che potrebbe essere sbagliata e difficile magari da gestire per una normale battaglie ma non per lei perché la proisen è una cosa allucinante a livello difensivo è una delle migliori battaglie di tutto world of warship con un quantitivo hp assolutamente esagerato di 105.800 e una durissima armatura in tutta il back da 380 mm con un ponte accortato da 50 e una prura ronchi bigliaccio super rinforzata la proisen comandanti è una nave che ama assolutamente aggredire gli avversari e molte volte le ranked battle se avete notato le avete giocate in passato o le state giocando in queste settimane sono questo tutte una sola questione di tempo chi campera a fondo mappa perde nelle ranked battle chi non dà assistenza perde nelle ranked battle chi non riesce a mettere capo velocemente cruiser e o radar nemici perde nelle ranked battle e questo è tutto quello che fa lei aggredire danneggiare i destroyer giocare vicino ai cap sfruttare la zona per evitare i siluri e pulire e punire qualsiasi cosa a suon di colpi di secondaria che vedrete tra poco quello che state per vedere è qualcosa di incredibile una singola nave che si porterà in tank tre navi avversarie di cui due batteship dico due più un incrociatore leggero col bear comincia la nostra azione di disimpegno 128 150 in azione tra l'altro comandante di questa nave pensate che ha delle secondarie che hanno una fire chance piuttosto buona del 7 al 9 per cento ma la cosa figa è che sparano ogni tre secondi e ogni 6.4 col 5 e l'8 per cento di fire chance questo perché avendo secondarie così grosse non necessita comandanti del come sapete del montaggio delle dell'ifk ovvero di mici inerziale e questo lo dà un vantaggio spaventoso il salem è già convinto che noi verremo brutalmente affondati ma non conosce le incredibili capacità difensive di questa nave ovviamente puntiamo sul col bear perché è il bersaglio più tenerino che pensiamo anche di annientare facilmente oltre al fatto che sia la nave con il dpm maggiore dall'altra parte e boom devastato doppia cittadella i 457 comandanti della preusset sparano ogni 21.4 secondi questo crea un dpm a questa distanza che è allucinante un potrebbe dire blizzard sì ma è veramente poco precisa è vero è poco precisa ma questa distanza non ve ne frega niente della pressione perché lei punisce e pulisce tutto qualsiasi cosa lei colpisce lo colpisce gli fa malissimo guarda adesso la schiffen decide di andare ovviamente sul salem che sta cercando di disimpegnarci eravamo 3 contro 1 ora siamo 2 contro 2 ma la schiffen sta colando a picco velocemente grazie al nostro feroce attacco di secondarie oltre con i nostri 457 l'armatura della preusset è quasi incitadellabile è difficilissimo colpire la cittadella ecco perché la schiffen sta colando a picco come una torta di burro nel forno e secondarie ci fanno poco niente e altro colpo in cittadelle giù la batteship signori qua parliamo di un fuoco incessante tra l'altro con il comandante luthien avete anche un bonus di accelerazione sulle secondarie che va a lavorare benissimo su questo genere di navi la preusset comandante ha poi questo incredibile sonar che le permette di evitare facilmente i siluri e quello che state avvenendo è a tutti gli effetti un massacro allucinante la sua repair party pensate che è in grado di recuperare fino a 604 hp al secondo per ben 28 secondi con una ricarica il novembre at foxford di soli 73 secondi siamo già ridosso dei 100 mila dopo neanche soli cinque minuti e mezzo di partita e stiamo per portare l'affondamento della nostra terza nave i 457 che colpiscono sulle sovrastrutture sul ponte sulla cittadella fanno sempre comunque male e quel dpm è allucinante se notate a differenza della curfust che ha un brandaggio torri molto più complicato e delle torri disposte in maniera molto più a casaccio sulla linea la pro se riesce effettivamente tutte le volte ad angolarsi e a sparare quasi completamente angolata cosa che la curfus non può fare il più delle volte può sparare solo con due delle sue quattro torri mentre invece la prois può sfruttare tutti e sui quattro i suoi imponenti postazioni offensive principali giù anche la nostra terza kill e a questo punto ci possiamo trasformare l'azione difensiva in offensiva abbiamo tancato quasi due milioni di danno potenziale tancato tre navi avversarie e affondato tutte e tre per me il Salem non ci crede infatti è stato affondato ha sbagliato dal suo posizionamento la Thunderer come sempre arriva in largo ritardo comandanti non è in questo modo che si vincono le partite classificate non è giocando le navi che stanno dietro come la Slava come la Thunderer come la Yamato se volete effettivamente fare la differenza dovete cercare di giocare ridosso della prima linea e dare aiuto alle vostre squadre l'aria intanto affonda la nostra montana dall'altra parte e il nemico cerca in qualche modo un po' di risistemarsi ma vi anticipo che non ci riuscirà perché comunque in ogni caso la nostra azione è ancora appena iniziata perché vi posso assicurare che le altre due navi che sono ancora in acqua porteranno l'affondamento contro di noi quindi verranno entrambe fatte a pezzi dalla nostra Preussen devo dire comandanti che io nel corso del tempo ho sempre sminuito molto la classe tedesca delle batteci perché le ho sempre trovate molto imprecise e assolutamente in maniera più persistente delle navi che giocano in modalità piuttosto situazionale perché le secondarie non le possono utilizzare sempre ed è questo nelle ranked ed è vero e ancora di più lo è nelle competitive dove si gioca spesso a lunga distanza vi posso assicurare che nelle ranked battle dove la differenza la fate anche e soprattutto aggredendo gli avversari una battaglia come questa è assolutamente allucinante se guardate poi è la nostra porteria ha fatto un gigantesco lavoro contro il marzo avversario è riuscito a metterlo ko cosa che la loro nakim non è riuscita a fare nei confronti del nostro piccolo destroyer da spotting di conseguenza questo ha permesso al nostro dd di cappare anche il kbd a questo punto con la thunder che sale su c la situazione per il nemico è piuttosto precaria a fin da partita comunque spiegheremo tutto nel dettaglio i motivi per cui la Preussen va assolutamente utilizzata nelle ranked battle in maniera continuativa perché veramente è una corazzata con la quale potreste anche in caso di sconfitta salvare sempre la stella questo perché perché oltre a fare danni spropositati contro le altre corazzate è in grado anche di fare tanto tanto male ai destroyer sfruttando le secondarie e sfruttando semplicemente lo spotting dei vostri destroyer quindi questo vuol dire aiutarli anche in maniera passiva senza per forza spararci contro con i principali e quindi vuol dire creare danno effettivo il danno effettivo sapete cos'è è quel danno che il vostro nemico non può curare ed è quel danno che i punti esperienza pagano molto 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 di più del semplice danno che fate contro le batteci che magari possono tancarlo e anche recuperarli quei punti vita che perdono a questo punto la nakimov è arrivata quasi ormai in concomitanza della linea a quindi ormai è sulla linea più estrema dove non può più sfuggire i nostri cannoni è ancora sotto il nostro tiro a questo punto i nostri quattro non ci passate cominciano a punire la nave della nave porta aerei sovietica lo hai intanto cerca una disperata azione sua per cercare di contestare l'unico che arriva puntualmente ai caliber mi anticipo che saranno ben cinque le medaglie che riusciremo a portare a casa in questa partita la nakimov ora rallenta completamente a questa distanza è piuttosto ampia ma con compresa considerando che completamente ferma per il c457 è burro fuso la sua fiancata e infatti quasi 40.000 di salva a oltre 18 chilometri e questo la dice lunga su chi dice che la nave è imprecisa perché effettivamente lo è ma contro un bersaglio fermo il discorso cambia e la nakimov sta per impararlo a sue spese affondamento quarta kill su cinque della nostra partita a questo punto giriamo i nostri canoni verso la battleship americana aspettiamo che l'essa faccia una leggera virata e giù tramvata facendo un po' di compensare con il reperi party addosso anche i nostri razzi della nostra porta aerei la virata è piuttosto stretta ma il nostro colpo sta arrivando e la sfiora leggermente ovviamente altri colpi ancora a segno della thunder come anche della nakimov il marsuo è molto lontano perché stava cercando la porta aerei altra salva arriva poi alla fine della porta aerei che cerca di vendicarsi prima che arriveranno questi luiri a segno sarà il nostro colpo portare la kill sull'ohaio signori kraken sulla chiusura quinta kill su sei in ranked è una cosa molto difficile da fare quasi oltre a 180.000 danni 45 colpi fatti in pochissimi minuti neanche metà partita 5 medaglie portate a casa 5 kill doppi in 100 6 cittadelle 160 colpi di secondaria portati in un amen oltre alle 4 incapacitazioni detente ai nostri fantastici cannoni questo è lo screen partita piuttosto eloquente guardate la distanza tra il primo e il secondo quasi 700 punti abbiamo praticamente fatto a pezzi la formazione avversaria quasi da solo attancato un'immaginità di punti danno fatto a pezzi di far detonato il colbert oltre che la schifra e la preussen l'autorata le abbiamo completamente dominate grazie a questa prodigiosa nave da battaglia per il combattimento ravvicinato perché usare la preussen nelle ranked battle comandanti questi sono alcuni numeri che ho estratto nel mio account con la preussen comandanti in oltre 90 partite in questa stagione ho raggiunto il grado di rank 1 gold ben due volte con il 69 per cento di win rate salvando la stella tantissime volte poi vi spiegherò il perché portandomi a casa circa due navi e mezzo ogni mio fondamento e con il record di cinque fondamenti effettuati in una singola partita quella che appunto avete appena visto quelli che elencati sono i motivi per i quali la preussen andrebbe utilizzata sempre come nave battesci di riferimento nelle ranked battle motivo numero uno tantissimi punti punti vita è una delle migliori in questo 105 mila e oltre tanti punti vita vuol dire maggiore capacità di resistenza e quindi più propensi a tancare il danno avversario difficilissimo raggiungere una cittadella ha una turtle back è veramente molto raro che subisca colpi cittadella e come sapete bene il danno bianco e il danno incendio e danno a floating è un danno recuperabile il danno cittadella non è recuperabile ecco perché lei resta a galla molto più delle altre perché quel danno lo può recuperare grazie al repair party ogni circa 75 secondi ed è un lusso considerando che altre battesci invece quel danno non lo potranno mai riavere a causa della cittadella esposta come appunto la schliefen terzo motivo canoni da 457 sono tra i più grossi che si possono avere a disposizione per le ranked perché se ci pensate se non ci fossero in acqua le super ship e in questa season non ci sono a parte i 460 della yamato quelli delle incomparable inglese e i 510 della shikishima non ci sono altre corazzate che possono superare questo calibro e lei in questo è al top quarto motivo spara ogni 21.1 secondi è una delle ricariche battesci più ridicole di questo gioco solamente la republic può competere con lei e scendere sotto questa soglia se ovviamente monta il leggendario anche in questo la pro e sen è una nave elite ottimo brandeggio torri è un brandeggio torri incredibile come avanti perché gira le torri a 38 secondi a 180 gradi è qualcosa che la mette tra le top di questa categoria probabilistica facile a gestire 810 metri al secondo anche un giocatore neofita con poca esperienza riuscirebbe a colpire un target a 15-16 chilometri considerando che la balistica il colpo è talmente veloce che non ha quella parabola sgradevole magari che hanno tante corazzate americane o giapponesi possono mettervi in grossa difficoltà o quelle inglesi secondarie potenti fino a 12,5 chilometri in questo cosa vuol dire vuol dire che ogni volta che un destroyer alleato spotta un didi nemico quasi sempre queste secondarie partiranno e cominceranno a sparare e ogni volta che faranno danno sarà danno effettivo ed è un vantaggio per il vostro destroyer che sta effettivamente combattendo contro un avversario e che cerca il vostro aiuto quindi anche se magari siete impegnati a combattere contro qualcos'altro le vostre secondarie continueranno a maternare su entrambi i lati in maniera corrispondiva ai vostri alleati che stanno spottando e quindi sarà sempre un costante aiuto sui vostri alleati in acqua sonar per evitare i siluri questa è una cosa importantissima i destroyer i siluri sono una delle cose più peggiori più peggiori che possono capitare alle battleship in acqua e lei in questo è preparata il suo sonar spotta le navi fino a 6 chilometri e i siluri fino a 4 in questo è assolutamente una nave fortissima colpendo facilmente i didi con le secondarie aiuta a sua volta i didi alleati discorso che abbiamo fatto prima e oltre a fare questo è anche facile salvare la stella perché perché il danno effettivo sui destroyer è un danno che conta molto di più per i punti xp quindi sarà anche più facile salvare la vostra stella in caso di sconfitta rispetto alle classiche batteci che faranno incendi a lunga distanza che cercano di giocare a 18 19 chilometri dal target colpendo semplicemente danni che poi vengono recuperati quindi quei danni non sono danni effettivi come quelli che fate su navi che non possono ripararsi come ad esempio la maggior parte dei didi facile salvare la stella abbiamo detto a differenza di altre corazzate perdona diversi errori proprio perché ha questo gigantesco quantitativo di punti vita e perché ha pure il sonar e soprattutto una turtle bag che le impedisce il corpo di cittadella il più delle volte tanti errori possono essere colmati possono essere diciamo ricuciti di conseguenza le vostre anche esperienze in partita potrebbero essere più lunghe nonostante magari abbiate poche capacità perché questa nave riesce a lavorare benissimo anche con i giocatori meno esperti capace di assorbire danni come quasi nessun'altra nave da battaglia proprio grazie al suo mix di hp punti vita quindi armature tutto il resto riesce a trasformare una sorta di pezzo galleggiante indistruttibile che va giù molto più lentamente di altre ovviamente non è indistruttibile ma rispetto a altre corazzate lo è è una delle migliori in questo sicuramente una delle migliori tre del gioco al tier 10 per capacità dell'esistenza avete visto come ha fatto la differenza contro la shifland e contro il colbert ad esempio e infine è gratuita è una delle poche navi da battaglia che in ranked può fare la differenza come avete visto e la fa effettivamente l'ha fatta come in una season intera con tre volte rancuno gold quel 69 per cento di win rate e in maniera gratuita tra l'altro le navi da battaglia tedesche sono molto divertenti da porta su specie dalla bismarck in avanti di conseguenza è anche un ramo piuttosto godibile perché se vi piace questo stile di gioco riuscirete bene o male anche ad assorbire le navi precedenti chiede alla gnesino in avanti gnesino bismarck e degross giocano tutte allo stesso modo in conseguenza vi farete già diciamo un allenamento un pre allenamento per poi giocare la pro se in un secondo momento ecco perché secondo me è una grande nave da battaglia tra l'altro lì a destra sotto i numeri statistici vi ho anche messo quello che il setup mio preferito full secondarie da ranked se notate ho tolto il sonore migliorato con il secondo modulo a carbone mettendoci quello del quello che diminuisce la percentuale di fire e di flooding a bordo proprio perché comandanti preferisco avere un sonore più corto ma più resistenza sugli incendi sui flooding considerando che i siluri comunque possono arrivare e tutto il resto è un potenziamento brutale delle secondarie un altro modulo di resistenza timone è un altro modulo resistenza di incendi e flooding sul quarto slot e poi la ricarica migliorata perché comunque 4-5 sette che sparano ogni 21 secondi a 4 è un lusso che pochissime altre navi possono permettersi e in questo lei va assolutamente aiutata la pro sen sarà anche una nave magari non sempre performante nelle random una nave che raramente vedete nelle competizioni dove serve precisione ma nelle ranked battle dove dovete effettivamente aggredire gli avversari la pro sen è una delle migliori navi da battaglia che potreste schierare e io mi sento di consigliarvela a pieno provatela e poi magari mi fate sapere cosa ne pensate i miei risultati sono stati piuttosto concreti e a dir poco sorprendenti non mi sarei mai aspettato che la pro sen potesse avere un impatto del genere nelle ranked ma ormai è da due season che la utilizzo con grandissimi risultati e quindi questo video tributo nelle ranked un po' le serviva comandanti spero che il video comunque l'abbia trovato utile e informativo fatemi poi sapere quello che pensate tra i commenti vi ricordo che siamo online durante la settimana su twitch del lunedì venerdì dopo le 20 giù nell'info box c'è il link al nostro nostro canale di twitch e come sempre ricordo che con amazon prime potete abbonarvi gratuitamente al nostro canale a collegandolo a twitch ottenendo quindi prime gaming l'abbonamento non costa niente si può rinnovare ogni 30 giorni sul nostro canale e continuerete mensilmente ad aiutare me e il barone grigio comandanti spero ancora che il video vi sia piaciuto ci sentiamo la prossima con le nuove super ship in arrivo ovvero il kuming e l'anfriss per il resto ci vediamo la sera su twitch come sempre da sottoscritto buona caccia